Buon pomeriggio Caneio Shack Buon pomeriggio anche te babbone Siamo nel periodo autunale E gli alberi cambiano il colore e cadono le foglie Certo Possiamo andare a fare una passeggiata in banco Snam Dobbiamo salutare gli insetti Che cosa? Ti odio mi fai schifo Fidati babbone sono carini questi insetti Dici sul serio? Va bene andiamo subito al banco Ok Bene siamo al banco Snam Wow Guarda babbone si chiama scarabeo d'acqua Salve scarabei Salve salve anche voi cani Possiamo divertire con te Certamente Venite a nuotare con me nel fiume Sii Brrrr Che vento Già Voliamo nel cielo Wow 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 Oh 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 Cani state tutti bene? Si stiamo tutti bene Mamma mia Che terribile vento Si E siamo anche bagnati Brrrr Che freddo Torniamo a casa Aspettate i cani domestici Non andate via Non è cominciamo Non è ancora finita Oh